Dobbiamo ascoltarlo e dobbiamo valutare tutti insieme le proposte che farà. Tra l'altro Draghi ha appena esattamente detto che ascolterà la società civile e i partiti. Quindi vogliamo tenere viva l'unità della coalizione ed è per questo che Salvini, Berlusconi, Meloni e noi stiamo lavorando in questa direzione. Quindi concorderemo con il presidente Draghi gli incontri e poi correttamente valuteremo. Sapete che ci sono sensibilità diverse, siamo abituati a dire questa parola, ma proprio perché siamo una coalizione. Ma credo che fino ad oggi abbiamo dimostrato unità, se no Conte 2, Conte Eterno se ne sarebbero andati a casa con quello spettacolo indegno che hanno dato in questi tre giorni. Abbiamo un'altra prospettiva davanti, quindi le elezioni non sono e non debbono essere per una democrazia, ma l'ha detta anche il presidente della Repubblica, sono una prova di grande democrazia per un popolo e contemporaneamente in una situazione come questa il presidente della Repubblica ha scelto una strada di appello a tutte le forze politiche.